Ma parla! Sì sì, certo! Secondo me è stato ucciso e si è mutato! No, ho appena fatto 171 con uno, vaffan... Buongiorno, buongiorno! Buongiorno, Steffi! Io vado all'hotel, Manu! Ma perché c'è un dodo con me? Aaaah! Perché no? Stei budi da rinani! Stei budi! Oh, ma quanto scudo ha sto stronzo? E' buon, è 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 buonissimo! Ma è buonissimo! Ecco, ho detto fatto! Boh, poggers! No! Si chiama Renegade con la skin ma non è Renegade, grazie! No! 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 Come si è caduto dalla skin! Ehi! Ma allora sono qui! Ce le vuole, è per cadere da una serie! Ciao! Sì, lo so! Io ce l'ho! No, non mi iniziare a invitarmi, come... Sì, sto finendo! Mi stanno arrivando ancora! Mi stanno arrivando ancora! Siamo in undici! Ho appena finito un fight intenso! Allora sono pro! Una! Sì! Ma che schifo lo show di oggi, ti piace? Appunto, fa schifo! Leviatano o non è bella? Zitti però, bastardi! Non insultare mia madre! Odiooo! Oh... Che schifo lo show! Cacca! Non non è venito! Non non è venito! Poi le mani usateiamo! Non è venito! o trasmetto che schemi metto raga no 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 metto lui non l'ho mai usato per colpa di pina non è possibile la giorni si bancare del passo sì se fai causa l'epic sì ma devi lanciare l'epic e diventare tipo non è così facile non so se ti conviene pure dopo denunciare l'epic ho capito che sei il re del mondo però secondo me capito che ti sei colpato delle belle cuffie però e allora facciamo così te dopo vai vai dell'epic e dici non la devi rimborsare che schifo è bruttissima hai capelli grigi riccioli appunto c'è zappo si fa si adesso siamo un po con loro perché se no loro dopo non giocano io non voglio giocare solo perché avrà come dovessi fare i compiti da noi ci siete alla monario certo a vederti ok ma non può giocare contro di noi 2006 vabbè ma è forte aspetta eh non so non so ho detto eh ma ma ha chiamato anche me in modo e dove gioca lui? l'ha chiamato anche Prani in modo l'ha chiamato anche Prani in modo si si ma due o tre infatti oh madonna sono fortissimo wow wow è nel giusto così mamma mia ragazzi hai vinto? ma che vissero hai vinto? no adesso perdo perché non ho vita e vabbè però allora senti no mi volevo fare un cilino e ho rizzato no c'è una banana no ma no ma qua c'è usato il risportatile eh il risportatile appunto no Piv sei uno stronzo le sue armi me le lasci eh Piv gliele devi lasciare ah beh ma percorso la vai a ricordare la parte eh vabbè sono morto non prende a niente non prende a niente sei morto? no ho quattro kg a due di vita e sono contro 40 persone come quattro kg avevi uno un minuto fa? eh vabbè te l'ho detto che sono fortissimo eh mi sparo da una parte e dall'altra oddio ho vinto oh oh cinque kg quanto son forte cazzo ragazzi quanto son forte forte ma sei vinto? si sono rimasto da sola ecco